Sì, ciao. Brooke! Ciao! Ciao! Wow! Sono contenta. Sono contenta anch'io. Ti abbraccerei, ma ho le mani piene di busta di tutti i tipi. Stai bene? Io benissimo, grazie. E tu come va? Sto bene anch'io. Sì. Sei molto bella. Grazie. Hai cambiato taglio, carina. Sì, oh, sì. Sei dimagrito. Beh, è un'impressione, veramente. Sono magro perché sono riuscito a eliminare qualunque possibile tipo di massa muscolare. Un'impresa difficile, sono molto fiero di me, infatti. Ma quanto stai bene. Grazie. Ma ho saputo che il viaggio è andato bene. Ah, sì, è andato molto bene. È rilassante, divertente. Ho visto certi posti pazzeschi. È stata una cosa... Ma è il momento in cui ti rendi conto di quanto ami casa tua. È bello riaverti. Già, è bello ritornare. E la barca. Congratulazioni per la barca. Grazie. Aspetto la buona stagione per venire a fare una navigata. Vieni quando vuoi. Offre la casa, naturalmente. Beh, allora vengo. Lo spero. Contaci. Beh, io devo... Sto andando a un meeting, quindi... Io devo andare a posare queste buste, ma... Sì. È stato bello vederti, Brooke. È stato bello vedere te? No. Scusa. Stavo dicendo, non aspettiamo così tanto se vogliamo... Sì. ...rivederci. Abbiamo tanto di cui parlare. Allora... Sì, brava. Ok. Ciao. 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 Ciao.